Amici di YouTube, ben trovati da Marco Liguori. Il mese di settembre appena iniziato e purtroppo segnaliamo già la prima perdita illustre nel mondo del cinema. L'attore, mito della nostra infanzia, si è spento nelle scorse ore e prima di saverne di più vi ricordo che, qualora questo video dovesse superare i 400 mi piace, ne pubblicherò immediatamente uno nuovo in questo video. Parliamo di un grave lutto che colpisce il cinema e le serie tv, soprattutto le serie tv degli anni 90 e dei primi anni 2000. A 51 anni è mancato l'attore Obindefo, attore che tra l'altro avevamo conosciuto in serie come Dawson Creek e Stargate. A ricordarlo sui social network ci ha pensato la collega e amica Katie Holmes. È stato meraviglioso lavorare con lui, era così attento e gentile. Queste sono state le parole di Katie Holmes che ha ricordato Obindefo che da anni viveva sulla sedia a rotelle dopo che aveva perso le gambe. In seguito ad un tremendo incidente, Obindefo era molto generoso e faceva del bene a tutti ed è stato ricordato con grande affetto da tutti i suoi colleghi. Che possa riposare in pace, amici di YouTube, io vi ringrazio per l'attenzione. Lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video, seguitemi anche sul secondo mani di Marco Liguori, seguitemi anche sul canale Marco Liguori News, seguitemi sul nuovissimo canale Marco Liguori. Psicologia e crescita personale. Ciao a tutti.